leggermente arretrato il 6 di Nembo Kidev galoppa norma getta alla chiusura facile al comando Norton B ma rinviene subito Little Games con Giorginio e vediamo se Giorgio D'Alessandro probabilmente si manderà via il favorito Little Games che si presenta in buona posizione c'è Negus Dasolo con Antonio Esposito 15 in lancio rinviene il 6 di Nembo Kidev e Nembo Kidev scavalca il 2 di Onimede Room e rimane ai lati di Little Games 29 e 6 i 400 e il favorito Little Games senza strappo è passato al comando su Norton B viene a largo ad attaccare il 6 di Nembo Kidev che dopo 600 metri di corsa appariglia il battistrada 44 e 3 i 600 ovviamente Little corre al comando in seconda posizione c'è Norton B in terza Negus Dasolo e gradatamente i cavalli raggiungono il paletto degli 800 passati in 59 e 6 Little Norton a largo Nembo Kidev di Negus Dasolo si avvicina Isaia Epi e sul rallentamento Isaia Epi va a prendere la seconda periglia esterna intanto il chilometro con un paletto più tranquillo in 15 e 6 passato in 1 15 e 2 Little è padrone della situazione e ancora lì Norton B di dentro Negus e sembrano i cavalli all'interno per il momento quelli che possono giocarsi la vittoria viene via in terza ruota Isaia Epi 1 e 31 e 3 quarti di miglio scappa via Little Games si può liberare così Norton B ma rimane lì e Little Games prende vantaggio importante con Giorginio si avvicina Isaia si avvicina Norton e di dentro Negus a largo di tutti c'è anche Poker Face HBT in retta d'arrivo Little Games ha preso il tempo a tutti e Giorginio entra in retta d'arrivo con un margine importante a largo di tutti dicevano Fierro con Poker Face Poker Face coglie in crisi il battistrada ma Little Little Games si salva da Poker Face 2 minuti e 7 decimi 1 e 16 una vittoria favorito per Little Games e Giorginio era la sua chance della giornata e se l'è giocata la grandissima non ha strappato il via è scappato al momento giusto e di una narice si salva da uno strepitoso Poker Face HBT per il terzo un migliorato ma non troppo Norton B 3 10 5 e il probabile arrivo della sesta Little Games e Giorginio il miglior difensore del torneo a portare a casa la vittoria